ciao a tutti oggi vi propongo una nuova ricetta si tratta dei ravioli ripieni di stracchino robiola nel mio caso l'acqua di pisellini tutto cotto in microonde tutto fatto in microonde e se volete potete cuocere i ravioli sul fuoco nessun problema se vi è piaciuto il video un bel like e se vi va iscrivetevi e condividete e se eseguite le mie ricette su instagram mettete la foto con hashtag rossini cucina ciao per questa ricetta abbiamo bisogno di 240 g di farina senza glutine mix share 3 uova 200 g di robiola 200 g di stracchino 250 g di pisellini finissimi sale pepe olio naturalmente se non siete intolleranti al glutine utilizzate la farina doppio zero e la proporzione è ogni etto di farina un uovo se volete potete aggiustare anche di sale proprio al momento della formatura della pasta inseriamo i pisellini nel bull di vetro ancora sorgelati aggiungiamo l'acqua fino a coprirli quindi andiamo in microonde al massimo della potenza per 5 minuti più 2 3 di riposo a forno spento adesso è il momento di impastare io aggiungo un uovo per volta perché voglio controllare che il mio impasto sia morbido ed elastico e non si sbricioli e oltretutto che non sia troppo lento se avete necessità per l'impasto senza glutine aggiungete anche qualche goccia d'acqua se avete una nana papera o un tirapasta sarete avvantaggiati per lo spessore della sfoglia io comunque la tiro col matterello la riempio e decido di fare due forme diverse una per la roviola e una per lo stracchino così da ricordarmi poterne servire due per tipo ai miei commensali e spennello la sfoglia di rosso d'uovo questo perché mi permetterà di tenere unito ben unito il raviolo senza che vada ad aprirsi in cottura i ravioli sono pronti i pisellini sono cotti quindi riempiamo una bull di pirex andiamo in microonda 900 watt per 7 minuti quindi nel frattempo inseriamo i pisellini leggermente scolati in un mixer e otteniamo una salsa saliamo e oliamo se necessario quindi passiamo la salsa ottenuta e mettiamo da parte inseriamo i ravioli nell'acqua bollente la saliamo e torniamo in microonde per 7-9 minuti a 900 watt disponiamo un po della salsa di pisellini sul fondo del piatto e quindi mettiamo due ravioli per tipo in ciascun piatto finiamo con qualche fiocchetto di roviola e di stracchino un po di piselli interi e una grattata di pepe ecco pronto il piatto ciao ciao